La cantante senza vili Sia, la cantante senza vili, bruciato lo scoop dei paparazzi Lo cantante si abbatte i paparazzi sul tempo postando le sue foto senza vili. Lo cantante australiana si ha bruciato un grosso scoop ai paparazzi, postando lei stessa una foto che la ritrae completamente senza vili. A quanto pare c'era chi era già pronto a vendere le foto della donna, proprio si ha postato il seguente messaggio sul suo profilo Twitter e Instagram, pare che qualcuno stia tentando di vendere foto di menù dai miei fan. Risparmiate i vostri soldi, qui la potete vedere gratis. Ogni giorno è Natale. Si addona ai fan un regalo di Natale in anticipo. La cantante con il suo modo di essere e di comunicare continua ad ammaliare moltissimi fan.